Buonasera a tutti e bentornati sul canale di Riccorto. In questo video andremo a vedere quali sono le condizioni del mio orto auto irrigante che ho costruito all'incirca 10 mesi fa con materiali di riciclo e di riuso come le cassette della frutta e un vaso per fiori in disuso. Quest'oggi andremo anche a sfatare vari miti sulla sostenibilità di questo orto e andremo a calcolare se realmente mi ha fatto risparmiare acqua per la produzione che ha avuto e andremo a ideare insieme un orto auto irrigante sostenibile che non comporta l'utilizzo di plastiche o materiali chimici. Andremo infatti a cercare insieme tramite i commenti di trovare un modo per impermeabilizzare un futuro a cassone e legno che poi sarà riempito di acqua e quindi poi di terra e altri componenti in modo da renderlo auto irrigante in modo da poter abbellire giardini, terrazzi e anche qualche orticello in città per persone che non hanno la possibilità di coltivare veramente in terra. Ho già fatto un video a riguardo molto utile e carino e molto esplicativo ve lo lascio qua sopra a destra in cui mi hanno già dato tanti consigli, tante persone su come effettuare questo progetto di un orto auto irrigante plastic free ma poche mi hanno dato idee su come impermeabilizzare il cassone come questo qua che è in plastica come vedete qua. Ben poche persone mi hanno dato l'idea su come riuscire a impermeabilizzare il cassone che in questo caso è un vaso in plastica in modo da non far fuoriuscire l'acqua è una cosa molto difficile perché lo dovremmo fare senza utilizzare materiali sia plastici e nemmeno chimici però ora concentriamoci su questo e alla fine del video ne riparleremo di più di questo orto auto irrigante plastic free naturalmente se l'argomento vi interessa mi raccomando lasciate un bel mi piace e se lasciate dislike perché vi sto antipatico almeno scrivete nei commenti perché, date una motivazione in modo da confrontare le nostre idee che è sempre umano e bello farlo. Ok posiziono la telecamera e andiamo a svuotare l'interno. Ok spero che si senta bene, qua come vedete ci sono avanzi delle piante di basilico perché questo qua era coltivato a basilico, pomodori e qualche piantina di insalata invece l'altro che ha prodotto fantasticamente l'altro solo a basilico è stata una produzione fantastica e invece questo qua con i pomodori che hanno radici molto più profonde non è stato un granché poi dopo vi spiego la ragione e tutte le motivazioni. Le togliamo e come incominciamo a vedere il tessuto o non tessuto che non è altro che fibre in credo plastica o qualcosa del genere, ha resistito un po' male infatti presenta molte macchie verdice di muffa e incomincia a perdere un pochino di pezzettini a cui sono attaccati i pezzettini di terra e di radici delle piante quindi non è già al massimo come materiale il tessuto o non tessuto. Lo andiamo ad alzare con cautela perché se no mi si rovescia tutto il terriccio che ormai è secco e se hanno stato al coperto e andiamo a vedere il sotto. Oh mamma mia. Allora qua le cassette si sono un po' sfondate avvicino la telecamera per farvi vedere. Qua le cassette si sono un po' sfondate essendo state appunto anche quelle lì un po' di riciclo e non avendo avuto rinforzi perché il legno sarebbe marcito e le fettucine sono invece rimaste al loro posto però il telo in plastica ha attaccato un po' posticcio e si è un pochino staccato allora secondo me potevamo farlo meglio. È venuto un progetto un pochino fatticcio che fanno in tanti. Di solito per gli occhi più grandi qua al posto delle cassette ci mettono delle reti in plastica e il telo è quello per fare i laghetti quindi è molto più grande e è molto più facile applicarlo e infatti durante la coltivazione mi sono accorto che il telo stava collassando e quindi ho dovuto metterci dello scotch che non è il massimo per la salute delle piante e nemmeno poi di chi mangia i prodotti che creano le piante perché lo scotch presenta dei collanti e anche le cassette della frutta qualcuno ha commentato che una o questa o nell'altro progetto non erano delle cassette alimentari naturalmente questo qua è un progetto di oggetti di riutilizzo quindi andare sul preciso non è nemmeno giusto però tante persone mi hanno detto che secondo loro c'era troppa plastica e anche secondo me me lo ricordo e vi chiedo di dare qualsiasi idea in modo da costruirlo di legno senza utilizzare ripeto materiali plastici o chimici e modo da farlo per fai da te per tante altre famiglie e farci un bel progettone sopra tutti insieme andiamo allora a scastrare queste cassette qua che erano messe proprio a incastro e come vedete dalle fettuccine sono scese delle radici guardate quante radici e queste qua ora le andrò a recuperare ci andrò a fare qualcos'altro ma la maggior parte dei materiali andrà buttata in teoria lo potrei riutilizzare almeno uno o due anni il tessuto non tessuto è già garantito per quattro anni di lavoro sul terreno e così immerso credo ne durerebbe almeno due però per ragioni di coerenza appunto che faccio agricoltura naturale non posso andare a coltivare su questi e anche per ragioni di estetica perché se penso cosa c'è qua sotto mi da un po' noia naturalmente nella nostra vita durante i nostri esperimenti si fa un po' di errori che poi durano o durano un po' di meno però l'importante è riconoscere le cose sbagliate riconoscere che a volte certi progetti possono essere fatti solo in piccolo per esempio per scuole e piccoli terrazzi ne ho visti di tantissime tipologie di questi orti auto irrigante già quelli già preconfezionati che ti vendono sui siti più gettonati online oppure quelli fatti con cisterne tagliate a metà quelli fatti, scusate il rumore, con vari materiali di riuso quelli enormi con i tubi di drenaggio sul fondo in modo da scambiare con la pietra pomice ecco, per dei vasoni per fare crescere delle piante così auto irriganti, così complicati che non tutti possono fare perché non hanno nemmeno disponibilità economica è un po' brutto vedere un progetto che potrebbe essere fantastico per moltissime case che vedi spoglie durante l'estate o anche durante la primavera e l'autunno che potrebbero essere abbellite con piante produttive o anche non senza dover occupare tanto tempo nella vita delle persone io sono anche dell'idea che però se uno vuole coltivare una pianta gli deve dedicare il tempo che necessita e infatti quindi uno dovrebbe dargli almeno una volta al giorno un'occhiata ma se non è possibile per ragioni di lavoro o cose del genere entra in gioco l'orto irrigante che vi può aiutare nelle scuole, nei terrazzi o se lavorate a coltivare il vostro basilico e la vostra menta per i vostri risotti e le vostre ricette in casa in modo da insaporirle e renderle più speciali allora io vi consiglio di scrivere quanti commenti vi pare di dire la vostra giù sotto e di condividere il video a qualunque persona che abbia qualche idea su come costruire cose poi voi ve lo date, mi date qualche scintilla e io cercherò di metterlo in atto intanto andatevi a vedere un video che vi lascio qua sopra a destra qui da qualche parte che ho già parlato dell'orto auto irrigante sostenibile e andiamo a calcolare un attimino la produzione finale che è stato di questo unico vaso che sarà 30 cm per una cinquantina a volte gli esperimenti sono riusciti, a volte non sono riusciti e come in questo caso sono stati un po' fallimentari non fallimentari dal punto di vista della produzione ma dal punto di vista dei materiali che già essendo stati di riciclo si sono sciupati molto più velocemente di quello che mi aspettavo mi aspettavo che le cassette sarebbero durate di più che avrebbero resistito al peso mi aspettavo che questo telo sarebbe collassato di meno e avrebbe perso meno acqua durante il periodo estivo e mi aspettavo che questo vasone in plastica si surriscaldasse di meno tutte queste accortezze andranno poi a aumentare la mia esperienza nel costruirli nei prossimi cercando di fare un orto-orto-errigante naturale senza l'utilizzo di plastica e ho altri materiali chimici infatti sto cercando un progetto ideale per poterlo costruire per poter fare in modo che tantissime altre famiglie possano costruire i loro orti nei loro giardini piccolini come questi che hanno il cemento o nei terrazzi o in qualche giardinetto in cui non è possibile scavare e utilizzare il terreno tante persone nel video della costruzione dell'orto mi hanno detto troppa plastica è già troppa plastica sono materiali di riciclo quindi la plastica che non volevo buttare delle cassette la plastica che non volevo buttare del telo sono andato a riutilizzarla ha avuto un secondo fine è plastica ma ha avuto una seconda vita questa vita però è finita si è rivelata un po' fallimentare cioè in teoria poteva anche durare di più però ho deciso proprio per principio visto che ha un orto fantastico di non coltivare più in questi vasi così brutti ho deciso di costruire dei cassoni in legno che poi vi andrò a far vedere in futuro quando li andrò a costruire e ho deciso di cercare un modo di sostituire il tessuto non tessuto con per esempio il cotone naturale o l'aiuta che ha lo stesso meccanismo del tessuto non tessuto solo dura un po' meno e andrà sostituita ogni due anni ma essendo un materiale naturale si va a decomporre quindi non darà nessun fastidio durante la decomposizione oppure per lo smaltimento e il problema è il vasone è il vasone e la sua impermeabilizzazione in questo caso il vaso in plastica pure aveva dei buchi dei buchi situati nel fondo che sono andato a coprire con questo telo di plastica ora essendo un progetto senza plastica volevo evitare anche questo telo che costa molto e in certi casi speriamo, non sempre, si può bucare lo volevo sostituire con i teli molto più resistenti quelli che ci fanno il fondo dei laghetti o delle cisterne in terra aperta però anche sempre lì era plastica e costano anche molto e quindi chiedo a voi in questo momento di bombardare i commenti di dare milioni di idee su come impermeabilizzare o anche su come abbellire evitare che si surriscaldi il vasone nel periodo estivo e in modo a costruirlo senza utilizzare materiali chimici plastica o materiali che poi andrebbero a entrare poi nel circolo dell'acqua delle piante e quindi che poi andremo a mangiare noi tante persone mi hanno fatto i complimenti per questo progetto anche se non è che li meritavo non essendo una mia idea però ora community di ricordo che siamo abbastanza in tanti vi consiglio di lasciare un bel like e se questo video non ti è piaciuto lascia pure un bel dislike ma scrivimelo sotto nei commenti perché non ti è piaciuto in modo da confrontare le nostre idee e cercare di capire un modo migliore per costruire questi orti ok questi qua sono i dati il mio vasone conteneva 33 litri che venivano cambiati riempiti ogni una barra due settimane dipendeva dalla temperatura che c'era nell'aria comunque in piena estate ogni settimana e questo orto è stato annaffiato per sei mesi e conteneva all'incirca dalle 7 alle 10 piante di basilico non mi ricordo precisamente allora una pianta di basilico al giorno coltivata in terra gli serve tanta acqua una pianta di basilico richiede molta acqua però se una pianta viene abituata come per esempio il mio basilico di solito gli andavo a dare una volta al giorno all'incirca un litro a testa e loro per una settimana una pianta si vedeva un litro quindi erano 7 piante qui all'interno 7 litri a testa venivano 49 litri a settimana che sembra lontano dal numero 33 ma all'incirca è molto vicino contate che in terra un po' di acqua viene dispersa e viene assorbita da altri organismi che poi ne fanno uso come tutti i microorganismi i lombrichi e le profondità poi del suolo in quel caso dell'orto l'acqua rimaneva lì e rimaneva lì ferma stagnante nel caso delle piante di pomodoro io li do poca acqua in estate nel caso dell'altro vasone che conteneva all'incirca 4 o 6 piante di pomodoro io davo a loro sempre visto che il vasone era ugualmente grande 33 litri e loro lo consumavano producendo un sacco di foglie e un po' pochi pomodori il consumo di acqua era un attimino arginato perché dal basilico si risparmiava lì in circa una quindicina di litri però nel caso dei pomodori piante che possono resistere anche con poca acqua come per esempio i fagioli quelli antichi e tutte le piante che hanno una grande resistenza alla siccità non serve metterle nei vasoni autoirriganti perché già di loro fanno il lavoro di risparmio idrico piante come il basilico piante aromatiche piante che hanno bisogno di tanta acqua quindi anche le insalate vari fiori di ornamento gli serve l'acqua quindi il risparmio idrico sarebbe sensato nei casi di piante anche più grandi come le zucche non le puoi mettere in un altro autoirrigante perché uno non hanno lo spazio necessario per crescere all'interno perché le radici andrebbero a sfondare tutto il tessuto non tessuto e andranno a cercare l'acqua disperatamente usandola tutta insieme e riempendo poi anche i frutti di quest'acqua che poi li fa diventare poco zuccherini infatti ho notato che i pomodori che mangiavo dall'orto irrigante erano meno zuccherini e meno saporiti per l'eccesso di acqua che rimane sempre a contatto con le radici quindi le piante se ne hanno bisogno la prendono invece i pomodori che coltivavo in terra non avendo a disposizione tanta acqua creavano i loro pomodori i loro frutti molto più zuccherini erano molto più gustosi e molto buoni infatti questa cosa che le piante abbiano sempre a disposizione l'acqua all'interno del vasone e abbiano sempre quei 33 litri che siano più o meno non è che aiuti molto al sapore e poi al gusto delle piante naturalmente poi le piante raggiungono uno stato di benessere molto visibile quindi piante all'ornamento ve lo consiglio di utilizzare l'orto irrigante ma piante poi da mangiare ne andranno molto a avere a meno per il fatto i nutrienti che non si trovano solo nell'acqua ma che dovrebbero andare a prendere nel terreno che se il terriccio non è buono all'interno del vasone stanno nelle piante con scarsi minerali e poi anche l'acqua bisogna vederne l'origine bene io vi lascio con questa domanda cioè l'orto irrigante è sostenibile ditemi cosa ne pensate nei commenti dite la vostra lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e come vi ho detto prima se non vi è piaciuto il video scrivete il perché non vi è piaciuto e comunque cerchiamo di trovare un modo di costruirlo senza utilizzare materiali chimici e plastici cioè derivati del petrolio in modo da creare un progetto fai da te utile a tutti in modo da renderlo disponibile e dare la possibilità a tante famiglie a tante persone di coltivare il loro proprio orto le loro proprie piante nel loro balcone perché occuparsi di una pianta oltre ad essere una responsabilità è una cosa molto bella molto utile anche per i bambini e questo progetto potrebbe essere anche adibito e costruito e presentato per varie scuole quindi alla fine io vi saluto e vi ringrazio di essere stati con me in questo video mi raccomando iscriviti al canale se ti interessano questi contenuti e ti lascio in descrizione tutti i video che ti pare se mai te li vai a guardare te li metti nella cartella guarda più tardi e li andrai a guardare fra un po' di tempo e andrai a scoprire un po' tutti i casini e tutti i problemi che ci sono dietro a questi orti o anche tutti i pro che ci sono nel costruirli e nell'utilizzarli io ti saluto ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando pensa 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 e mi raccomando